Domani sarà il day one di un nuovo update gratuito di Jurassic World Evolution 2 che tutti coloro che possiedono questo videogame potranno scaricare tranquillamente. Ma non solo, verrà reso disponibile anche un nuovo DLC dedicato agli animali piumati. Oggi in questo video vorrei mostrarvi tutte le loro skin. Visto che questo è un video showcase, dove semplicemente diamo un'occhiata agli animali presenti nel pacchetto e alle loro skin, nella mappa quadrata Bioma Tropicale Isla Nublar ho creato, come potete vedere, tre recinti per i tre dinosauri più una voliera per il rettile volante presente nel trailer. Direi di partire liberando gli U-Tyrannus. Daremo un'occhiata alle skin di questi animali più alla loro descrizione presente all'interno del gioco. Eccoli che arrivano. Come potete vedere, hanno tutti delle colorazioni diverse gli uni dagli altri. Per esempio, questo qua non ha un motivo, motivo neutro, e ha come colore pelle Valle della Morte. Mentre il suo compare a fianco ha Valle di Champlain come colore pelle e motivo rana. Infatti assomiglia tantissimo a una tigra con queste strisce. Il terzo, U-Tyrannus, ha colore pelle Svalbard e motivo neutro. Infatti non è presente neanche una striscia lungo il suo corpo. Questo ha colore pelle Fiume Yukon. Assomiglia tantissimo a Svalbard, solo che è un grigio più chiaro. Mentre il motivo è Papurana, infatti ha delle strisce lungo il corpo, ma sono praticamente quasi invisibili. Anche queste corna che hanno sopra gli occhi cambiano leggermente di colore. Infatti, per esempio, quelle di questo animale sono marroni. Quelle di quest'altro sono rossicce e azzurre. Quelle di questo esemplare sono anch'esse marroni. Ed infine, quelle di quest'ultimo dinosauro sono azzurre e rosa. Ma dipende se possiedono il motivo oppure no. Vediamo col rallentatore come attacca le caprette. Mamma mia! L'ha presa per il collo. La sta facendo dondolare per spezzarle la schiena. E poi se la mangi in un sol boccone, veramente, non me l'aspettavo. A parte che, vabbè, la capretta è sparita, ma non importa. Devo dire che questo sta diventando uno dei miei dinosauri più mati preferiti. Perché è veramente un gran bel predatore. Ok, è ripartito, è ripartito. Sta correndo dietro un'altra capretta. E... Diamo un'occhiata a questa battuta di caccia di nuovo con lo slow motion. Mamma mia! Povera capretta! Peccato per questa pianta in mezzo. Ma, in ogni caso, possiamo osservare tranquillamente l'animale mentre si sfama. Ho preparato altri quattro esemplari da mostrarvi. Guardate quello lì, violetto, sulla destra, che bello. Allora, vediamo un po' che skin possiedono questi dinosauri qua. Questo ha valle di Champlain e motivo neutro. Marroncino. Non mi fa impazzire, eh, devo dirvi la verità. Questa skin non mi fa impazzire. Questo è quello che vi dicevo prima. Violetto, con queste cornine di colore verdino. Abbiamo potuto vedere anche un'animazione mentre stava cercando di socializzare con un altro esemplare della stessa specie. Foresta pluviale amazzonica, mentre il motivo è pelopilax. Eccone qua un altro, bellissimo questo qua. Con colore pelle bacino del fiume Gambia e pulcerana. Adoro queste strisce bianche su fondo rossiccio. Mentre l'ultimo che ho appena liberato è questo qua, con delle strisce rossicce su colore pelle, praticamente blu petroglio o qualcosa del genere, perché non è un grigio. Foresta di mangrovia, sì, azzurro petroglio, mentre il motivo è Lito Bates. Lui praticamente ha una cresta giallina rossiccia. Passiamo al Sinosauropteryx, un piccolissimo dinosauro carnivoro presente nel DLC dedicato agli animali piumati. Ne ho incubate sei di uova, quindi liberiamo questi sei esemplari. Sembrano un pochettino lo scoiattolo dell'era glaciale, con questa coda molto molto lunga. Però sono bellissimi. Dovessi scegliere tra questi e i compi tutta la vita questi. Tutta la vita questi. Il Sinosauropteryx sembra perfetto per portarselo a casa come un grazioso peluche. Ma per essere così piccolo, questo dinosauro è un cacciatore davvero spietato. Credimi, non ti farebbe piacere averne uno che ti morde i piedi? Grazie mille, Cabot ci ha descritto velocemente l'animale. Questo qui ha una skin bacino del fiume Gambia più pulcerana. Guardate come lottano tra di loro. Guardate come lottano tra di loro. Passiamo al prossimo esemplare. Lui ha colore pelle fiume Yukon e Lito Bates come motivo. Quest'altro invece Montichilian motivo neutro. Il quarto Valle della Morte e Papurana. Questo qui non so se è quello che abbiamo già visto prima, ma in ogni caso ha foresta pluviale amazzonica e Chalcorana. Questo invece ha un colore pelle rosaceo, tipo salmone, deserto di sonora e Pelopilax. Amano stare con tutti gli animali e detestano l'Indominus Rex e l'Indoraptor. Passiamo al terzo dinosauro, il Deinokairus o Deinokairus. Ne ho creati quattro, naturalmente con colorazioni diverse. È molto particolare. Fa abbastanza sorridere con questo becco ad anatra. A parte che anche le zampe sembrano quelle palmate delle papere. Deinokairus, questo dinosauro piumato è spesso paragonato a uno struzzo e la cosa non mi sorprende, visto il lungo collo, le piume, il becco. Solo che è molto più grosso e se la situazione si mettesse male, qualcosa mi dice che questo non nasconderebbe la testa sotto la sabbia. Grazie mille, Kebot. Allora, loro vogliono delle foglie basse dell'acqua e anche del pesce. Allora, aspettate che gli mettiamo la mangiatoia per piscivori, delle foglie basse. Eccole qua. E poi... Dell'acqua ne vuole un pochettino di più. Non ne ho messa abbastanza nel recinto. Ne vuole molta di più. A parte che adesso ne ho creati quattro, quindi ci sta che, come dire, il recinto non sia abbastanza grande per quattro esemplari di questa specie. Ne ho creati altri tre. Vi faccio vedere le loro skin. Eccoli che arrivano. Fa ridere come si gratta la spalla, praticamente. Fantastico. No, è un gran bell'animale. Non è sicuramente uno dei miei preferiti, però sono contento che l'abbiano aggiunto al gioco. Allora, lui ha la skin Montichilian e Motivo Neutro. Infatti non presenta alcuna striscia lungo il corpo. Questo qua, invece, Valle di Champlain e Pulce Rana. Infatti ha delle protopiume grigie e altre un po' più rossicce. Foresta di Mangrovia, Motivo Neutro. Salar del Wasco con Pelopilax. Valle della Morte e Cialcorana. Molto bella questa skin. Bacino del Fiume Gambia e Pulce Rana. Fiume Yukon e Pelopilax. Questo qui dovrebbe essere quello bianco che abbiamo visto prima uscire dall'incubatrice. Poi abbiamo Montichilian Motivo Neutro. Ve li ho mostrati già tutti. Comunque, diciamo che nel suo recinto bisogna mettere parecchia acqua per far sì che l'animale sia soddisfatto. E in questo caso addirittura servono due mangiatoie per piscivori. Passiamo al rettile volante che tanti di voi hanno definito pipistrello preistorico. Liberiamolo. Lui si ciba di insetti. Questo piccolo e soffice rettile è il Geholopterus. Piuttosto carino, vero? Vedi quelle adorabili zannette? Beh, se non fai attenzione ti daranno un bel morso. Quindi, occhio! Grazie mille, Cabot. Faremo attenzione. Comunque, con la sua introduzione all'interno del gioco, gli sviluppatori hanno inserito anche le mangiatoie per insettivori. Adesso, per il momento, l'unico animale che me la chiede è lui, ma sono sicuro che ce ne sono altri su Jurassic World Evolution 2. Diamo un'occhiata a tutte le loro skin. Per esempio, questo qua ha colore pelle Grandeserto Savioso e motivo Pelopilax. Ah, guardate, si sta appoggiando alla mangiatoia. Cattura al volo le falene. Fantastico! Opla! Quindi si ciba in questo modo. Lui invece ha fiume Yukon e motivo neutro. Sì, lui sembra veramente un pipistrello con questa colorazione. Montichilian e motivo Rana. Questo qui invece ha Valle di Champlain come colore pelle e Pulcherana come motivo. Lui ha Foresta Pluviale Amazzonica, bellissimo, di questo colore rossiccio, più motivo Rana. Deserto di Sonora e Cialcorana. Salar del Wasco e motivo Rana. Gran Deserto Savioso, Pelopilax. Questo animale ama stare in gruppi di quattro esemplari della stessa specie, almeno, e detesta gli ibridi del Doctor Who. Prima di andare dal visualizzatore di specie, ho pensato di fare un salto nel database per leggere la descrizione che è stata inserita per ognuno degli animali presenti all'interno del pacchetto. Lui è un animale onnivoro, sto parlando del Dynokyrus. Pesava 7 tonnellate e poteva raggiungere una lunghezza di 11 metri. È il più grande ornitomimosauro mai esistito. Visse 70 milioni di anni fa nel Cretaceo Superiore e il suo nome significa mano orribile. Effettivamente non ha dei grandi artigli, con riferimento ai suoi grandi e potenti artigli. Fu scoperto nel 1965 nel deserto del Gobi. Solo nel ventunesimo secolo, in seguito al rivenimento di altri resti, gli esperti hanno iniziato a comprendere meglio questo dinosauro. Viveva nei pressi dei canali fluviali, nell'odierna Mongolia, dove flore e fauna abbondanti soddisfacevano la sua dieta onnivora. Questo genere condivideva il suo habitat con tirannosauridi come il Tarbosauro e l'Alioramus. Nonostante le sue grandi dimensioni, i segni di morsi rinvenuti su alcuni fossili dimostrano che subisse attacchi da parte di questi predatori. Questo è il Sinosauropteryx, piccolo teropode originario della Cina Nord-Orientale, visse nel Cretaceo Inferiore, pesava poco più di 2 kg e raggiungeva circa il metro di lunghezza, un po' come il Compi, più o meno. Infatti è parente del Comsoniatus, ma ha le piume, a differenza del suo cugino più grande. È il primo esempio noto di dinosauro piumato non volatile che ha portato i paleontologi a ipotizzare che i moderni uccelli si siano evoluti da rettili come i dinosauri. Pensate che fu scoperto nel 1996 nella provincia di Liaoning e in un primo momento il suo ritrovamento suscitò grandi polemiche. Visse nelle praterie cinesi circa 122-124 milioni di anni fa, si nutriva di lucertole e mammiferi di piccola taglia, evolvendosi in modo da correre velocemente per inseguire anche le prede più agili. Questo è lo Yeolopterus, un opterosauro anurognatide caratterizzato da un muso smussato e da file di entiaguzzi. Il genere prende il nome dal luogo in cui viveva, infatti popolava la regione di Yeol nella Mongolia interna. Il genere è stato descritto per la prima volta nel 2002 da un gruppo di paleontologi in seguito alla scoperta di uno scheletro quasi completo. Questo esemplare ben conservato ha permesso agli esperti di studiare approfonditamente il genere e formulare ipotesi sul suo stile di vita. Viveva in foreste dove il clima era caldo-umido con una ricca varietà di flora e fauna e sebbene la maggior parte degli anurognatidi si nutrisse principalmente di insetti, le sue dimensioni hanno indotto i ricercatori a ritenere che potesse essere anche piscivoro. Ultimo ma non meno importante è lo Jutairannus, un dinosauro carnivoro della famiglia dei tirannosauridi, lontano parente del temibile T-Rex. Si distingue per le lunghe piume sul corpo e sulla coda, con una lunghezza di circa 9 metri è il più grande dinosauro carnivoro fino a rascoperto di cui si accertezza che fosse piumato. Non c'è chiarezza però sul luogo di rinvenimento, i primi esemplari furono ottenuti tramite un commerciante di fossili che sosteneva fossero stati portati alla luce in una cava nella provincia di Liaoning. Questo genere è visto durante il Cretaceo Inferiore nella Cina Nord-Orientale ed è probabile che sfruttasse il piumaggio per regolare la temperatura a causa del clima freddo. Diamo un'occhiata ai vari colori pelle e colore motivo che non sono riuscito a mostrarvi prima di questi animali. Come vedete lo Iolopterus ha un sacco di colori pelle e tantissimi motivi che ci permettono di creare tanti esemplari diversi tra loro. Anche il Sinosauropteryx ha tantissimi colori pelle diversi tra loro, magari un po' più spenti rispetto a quelli dello Iolopterus. Anche per quanto riguarda i colori motivo ne ha tanti ma sono tutti tendenti al grigio e al nero. Questi invece sono i colori pelle del Dino Kairus. Se non sbaglio questo era quello che avevamo visto nel trailer e di cui vi avevo detto con questa skin assomiglia a un tasso. Ne ha moltissimi anche lui. Alcuni molto sgargianti, tipo bacino del fiume Gambia. Per quanto riguarda i colori motivo si passa dal bianco al nero a questa specie di violetto. Questi invece sono i colori pelle dello Jutairannus. Il mio preferito è questo qua, fiume Yukon, e con quelle strisce di colore nero sembra una zebra. Bello anche questo violetto e questo azzurro petrolio. I colori motivo di questo animale o sono molto scuri, tipo il rana, oppure molto chiari come il pulcerana o il papurana. Va bene ragazzi, rieccoci qua. Ho attivato la telecamera automatica così possiamo dare un'occhiata da vicino ai vari animali che ho liberato nei recinti e nella voliera che ho costruito in questo episodio di Jurassic World Evolution 2. Vi ricordo che questa è una funzione presente nel nuovo update gratuito, quindi per poterla utilizzare dovrete semplicemente aggiornare il gioco. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, se il video vi è piaciuto mi raccomando ricordatevi di lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci rivediamo in un prossimo episodio sempre qui su Jurassic World Evolution 2. Alla prossima!